...le uova nel paniere della Lucky Wind che già ora gioca proprio il picker... ...stiamo andando molto bene al rimbalzo... ...e già dall'altra parte... ...fase di competizione... ...mentre dall'altra parte... ...i 18 punti e anche Guerrini che si è unito alla competizione con Sesi... ...difesa dopo poca comunicazione sul blocco che ha coinvolto il capitano prima... ...e Guerrini... ...regala un extra possesso ai suoi... ...ancora la palla per il numero 10 che questa volta si era stata in precedenza... ...una palla sporcata dalla difesa di Todi... ...playmaker... ...show di David... ...tenta l'anticipo... ...pucato, punito dall'altra tripla di Aiani... ...per... ...coach Pierotti nel frattempo qui... ...una smorfia di dolore... ...ora contropiede per... ...il tiro è uno dei suoi... ...chiude ancora la difesa del basket... ...più libera per far attaccare i suoi esterni... ...perché abbiamo visto comunque del basket piacevole in campo... ...di sorprendere la difesa non schierata... ...Gion David... ...Guerrini recupera il pallone... ...Riezza... ...Mera... ...non proprio... ...multo bene... ...grande difesa proprio di Guerrini... ...su Agliani... ...un'altra palla... ...un'altro Coniglio... ...questa volta decide di affidarsi a Guerrini... ...con la tri... ...decisamente... ...che si è nelle mani di... ...David Cimarelli... ...Cimarelli che riceve da Ratt... ...attacca Cardoni... ...e trova... ...e qui Agliani lasciato... ...Maria numero 9 decide di passarla a... ...David Cimarelli... ...per un fallo che non c'era... ...ora Cardoni mette a posto i piedi... ...vediamo cosa inventerà per Mariotti... ...che mette a posto i piedi... ...Baldinotti... ...ora è un po'... ...uno scarica... ...Invece Elias si dimostra molto più pronto mentalmente di me... ...in questo caso invece c'è una piccola disattenzione... ...che porta a una palla per... ...Mariotti che allarga per la tripla da distanza... ...Jack Anastasi nel frattempo... ...Giulio Contardi... ...pronti nelle partite che avete disputato contro... ...avvicinarsi al ferro visti gli infruttuosi tentativi da tre punti... ...Cipro... ...28% della produzione offensiva dei nostri è passata per le sue mani... ...Todi che ritorna a zona... ...questa volta attaccato possibile sul cronometro e amministrare il vantaggio... ...Giulio Contardi riapre proprio per Simoni che è marcato da due... ...la visita al campetto da parte di Giulio Contardi... ...perché non riuscita possa arrivare prima a 10... ...Simoni sul parchè del Palapaternesi... ...Simoni allarga... ...Pesi dove è entrato anche il numero 8... ...Sciarra... ...Simorelli con la stoppatissima tabellone... ...e ormai completamente... ...Sciarra che nel traffico si fa stoppare dalla difesa di Todi... ...ancora non è finito... ...I giocatori superano la metà campo... ...si stringono già la mano perché ora è ufficiale... ...la Lucky Wind UBS Foligno... ...vince la Cappa del Centenario per la Serie C Gold edizione 2021... ...e lo fa... ...permetteteci di dirlo con estremo merito...